Sono circa una quarantina le famiglie sgomberate dagli appartamenti di Via Lago di Borgiano nel quartiere Rancitelli di Pescara che attendono ancora una sistemazione che vivono negli alberghi. Alcuni di loro questa mattina, assieme al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, hanno protestato proprio sotto le palazzine inagibili perché le alternative offerte loro da Ater e Comune di Pescara necessitano di costosi interventi di ripristino dei locali che, lamentano i residenti, sarebbero quasi integralmente al loro carico. Infatti, raccontano, a titolo di rimborso sono stati offerti circa 1000 euro scalati dagli affitti da pagare. Gli appartamenti che stanno proponendo necessitano di ristrutturazione, quindi proprio di essere messi a norma e richiedono una certa spesa. Noi avevamo delle case già sistemate da noi, abbiamo già affrontato delle spese in quanto abbiamo perso tutto perché tutto quello che avevamo è all'interno di queste abitazioni per quello che ci è rimasto dato che hanno anche rubato e adesso non siamo proprio nelle possibilità ma non abbiamo proprio volontà di spendere queste cifre alte per noi per sistemare un alloggio Ater che non sarà mai nostro perché il proprietario è l'Ater e poi anche in modo temporaneo. Una situazione che, sottolinea Pettinari, sta determinando una disparità di trattamento tra le 82 famiglie in totale che hanno dovuto lasciare le palazzine pericolanti. Sono tutte persone oneste, non sono delinquenti, non sono pregiudicati quelli che vorremmo cacciare noi dalle case popolari e si ritrovano così senza avere nulla, in mezzo a una strada, parcheggiati in albergo. Quindi amministrazione regionale, perché queste sono di regione Abruzzo, che ci continuano a dire sta tutto a posto, gli sfollati li abbiamo sistemati, è falso. Qui ci sono queste persone che meritano immediatamente una sistemazione idonea come è stato fatto per gli altri, perché adesso c'è un'evidente disparità di trattamento. Pettinari poi ha colto l'occasione per fare il punto della situazione sulla questione fondi per il bando delle periferie. Tutto risolto, dice il pentastellato, gli stanziamenti governativi sono stati solo differiti. Sono stati solamente traslati per errori tecnici fatti dal PD, quindi ci saranno tutti i fondi a breve. non servivano per la ristrutturazione delle case popolari, quindi che cosa stiamo dicendo? Quelli sono soldi per la riqualificazione urbana. Cosa significa riqualificazione urbana? Fare un parchetto. Infatti i soldi per la manutenzione delle case popolari sono stati messi dalla regione Abruzzo, quelli per Fontanelle e altre parti, grazie alla nostra sollecitazione.